Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, mercoledì 5 febbraio 2020. Siete sul canale 17 di Fano TV e questa è Occhio ai giornali che comincia con il fare gli auguri a coloro che portano il nome di Agata perché oggi è Sant'Agata che tra l'altro viene invocata anche per la guarigione delle malattie del seno. Il sole sorgerà alle 7.20 e tramonterà alle 17.24, oggi avremo un cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti soprattutto nel centro-sud della regione, abbiamo anche nevicate sopra i 700 metri nel sud della regione, le temperature sono in diminuzione, abbiamo ancora raffiche di vento fino a burrasca forte, il mare sarà molto mosso con possibilità di mareggiate. Per la giornata di giovedì domani cielo sereno poco nuvoloso con temperature ancora in lieve diminuzione, venti fino a burrasca, intensità in calo però nel corso della giornata. Attenzione alle mareggiate soprattutto domani mattina e al gelo in collina. Per venerdì le temperature sono ancora in diminuzione, soprattutto le minime, per il resto il cielo sarà sereno poco nuvoloso, qualche venticello di brezza leggera, gelate diffuse durante la notte e nella prima mattinata di venerdì. Il tempo tornerà ad essere stabile e soleggiato anche per il fine settimana e l'inizio di quella prossima. I giornali che cosa scrivono questa mattina in primo piano vedremo subito, lo vediamo subito con il Corriere Adriatico che si occupa dell'ingresso in giunta, nella giunta targata PD e guidata da Matteo Ricci, della Franco Ellucci che è stata sospesa dai provvibiri del Movimento 5 Stelle. In giunta nessun esponente, dicono da Roma il facilitatore Fede Ricci pensi a Pesero, non è lui a dettare la nostra linea. A centropagina la cronaca coltellò il rivale condannato a 8 anni, il PM aveva chiesto 7 anni e 4 mesi, il legale della vittima parla di pena esemplare, l'aggressore lo aveva ferito gravemente con più fendenti. Accelera invece l'inchiesta ERAP almeno 10 casi sospetti, indagati un ingegnere e due geometri dell'ente, accuse a fuoco tramite il materiale sequestrato. Sono una decina le pratiche sospette per ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione. L'indagine, denominata lavoro in corso, ha un'accelerazione dopo la raffica dei perquisizioni e sequestri di una settimana fa. Indagati l'ingegnere Ettore Pandolfi, il geometra Gianluca Ruscitti e un altro tecnico dell'ERAP. Questa invece è la pagina del Carlino di Pesero. Ridateci gli ospedali da Cagli, Fossombrone e Pergola, cittadini e amministratori ad Ancona per protestare contro l'approvazione del piano sanitario di Ceriscioli. Rivogliamo, dicono, i servizi che ci avete tolto. I provvibiri, assessore 6 sospesa, il Movimento 5 Stelle, Frenquellucci, scelta personalistica. Il centrodestra parlerà al prefetto, minoranze non tutelate. E poi l'ingorgo, insorgono gli abitanti di via della robbia, la rabbia dei residenti, condominio nuovo in balia dei balordi. E poi il tartufo c'è, ma non si può raccogliere il bianco e gli scherzi del clima. E poi uno struzzo di 100 chili a passeggio per padiglione, è stato bloccato dalle guardie forestali. L'incubo maltempo con vento a 120 km orari, danni alle auto e alle strutture. E poi a Baia Flaminia le partite IVA si organizzano. Non paghiamo le tasse, dicono tutti insieme. Poi la storia che vedremo nel corso di questa rassegna stampa da Urbino, una mamma insieme ai suoi figli, che si laureranno i prossimi giorni tutti quanti insieme. A cena dai cinesi contro la psicosi da coronavirus. Questa sera l'incontro in due ristoranti, gestiti da orientali, una balanga di adesioni. Tragico parto, 17 indagati al Salesi di Ancona, bimba morta, nata morta, sotto accusa medici, infermieri, personale e sanitario che seguivano la madre osimana. Centropagina anche qui, il piano della regione nel mirino dei comitati, ospedale da salvare. Vento a 100 km l'ora, alberi che si abbattono sulle auto e tir che si ribaltano, mentre a Senigallia ruba una carrozzina o una disabile, poi la rivende a 100 euro. Ancora maltempo, questa volta dal Carlino di Macerata, maltempo, danni e feriti. Vento a 126 km l'ora, alberi abbattuti e strade chiuse. A Civitanova, a Tettoia, a fuoco per una sigaretta, ristorante evacuato e paura in centro storico. Sempre dai quotidiani, questa volta da Urbino, mantenendo il tema del maltempo, un albero crolla e abbatte un cavo della luce. Tra sanni resta il buio per ore, violente, raffiche di vento spazzano introterra e costa, due auto danneggiate e traffico in tilt. Pompiere e polizia urbana impegnate in tutta la provincia per garantire sicurezza. Sempre sul maltempo, a 120 km l'ora, decine di piante sradicate, colpite molte auto in sosta, ma nessun ferito, divelti i cartelli stradali a redi urbani, appesano temperature fino a 18,5 gradi, quasi estive. Un vento, come dicevamo, che ha provocato lo sradicamento di decine di piante, all'apparenza anche robusta. A Pesaro la velocità delle raffiche ha toccato 65,2 km orari alle 7.30 di ieri mattina. A Urbino, invece, 126 km orari, mentre le temperature sono state decisamente primaverili in mattinata, con Pesaro che ha toccato i 18 gradi e mezzo. Poi, dalla cronaca del Corriere Adriatico, il ladro seriale colpisce ancora. Nel mirino una parrucchieria e una pizzeria, sempre cavallo nella zona del centro mare. Forse un ladro solitare, un balordo a caccia di qualche soldo dal fondo cassa dei negozi da usare per comprare la droga. Un copione, questo già visto anche in precedenti furti di questo tipo, forse più di un malintenzionato. Insomma, sta di fatto che da qualche giorno ad essere presa di mira sono piccole attività commerciali. Anche nella notte, tra un uodì e martedì, a Pesaro, ci sono stati due episodi. Si tratta di un colpo alla pizzeria Portos di Via Cecchi, dove è stata forzata la porta d'ingresso, rubato un fondo cassa di circa 50 euro e poi un altro furto, per esempio l'albero azzurro di Santa Veneranda, dove i gnoti hanno forzato le finestre dell'asilo, rubando un tablet circa 120 euro, che era un provento della raccolta fondi dei genitori. Feria Coltellate, rivale, ero geloso, dice lui alla giudice, condanna a otto anni, gesto premeditato. Il PM ne aveva chiesti sette. Anche il resto del Carlino, su questo processo, tentò di uccidere il rivale, pena di otto anni, è l'egiziano che a Borgo accoltellò l'amante della moglie. La donna disse che voleva ammazzare anche lei e i figli, indagata però per calunnia. Andiamo sulla pagina ancora del Correa Adriatico per parlare dell'inchiesta delle fiamme gialle che ha interessato l'Erap. L'indagine ora accelera. Spuntano dieci casi sospetti. Coinvolte l'ingegnere Pandolfi, il genometra Ruscitti e un altro funzionario del servizio tecnico. Scrive Lorenzo Furlani questa mattina sul giornale. I fatti si riferiscono ad appalti e cantieri gestiti dal presidio provinciale di Pesorubino dell'Erap e vedono indagati l'ingegnere Ettore Pandolfi di Fano nelle funzioni di ex responsabile del servizio tecnico, ora dirigente della sede provinciale di Ascoli Piceno. Il geometra Gianluca Ruscitti di Fano, il dipendente del settore lavori pubblici, è un altro tecnico di Pesoro che non ha subito però le perquisizioni presso il domicilio e l'ufficio, quindi non è stato formalmente informato dell'indagine. Sonte inchiesta, sono finiti anche i titolari di cinque imprese i cui nomi ricorrevano con frequenza nell'assegnazione dei lavori. Poi c'è un riquadro con un risvolto che riguarda uno degli indagati, Gianluca Ruscitti, che è noto per il suo attivismo politico a Fano, che è totalmente strano all'attività professionale oggetto dell'inchiesta della finanza, già candidato con il PD alle elezioni comunali del 2014, ha cambiato casacca approdando nella lista Noi Città dopo essere transitato per possibile. Si è candidato con Noi Città alle elezioni amministrative di Fano nel 2019, diventando poi portavoce della lista del sindaco. A Fano si parla invece delle domeniche ecologiche. e adesso in tanti insomma difendono nella giunta l'assessore Mascherin, la cui testa era stata chiesta in particolare dalla Lega, ha chiesto le sue dimissioni, ma la scelta di fare queste domeniche ecologiche a Fano è stata una scelta di tutti, una scelta collegiale e quindi Mascherin non si dimette. Fano ha apprezzato la sperimentazione. La lista in comune respinge dunque la richiesta della Lega, ignorato il Movimento 5 Stelle per le domeniche ecologiche. Ucuccione giudica insufficiente la misura contro lo smog, ma esalta la socialità e la mobilità. Un errore, secondo invece Alberto Bacchiocchi, segretario comunale del Partito Democratico, fermare le auto elettriche e quelle a metano. Il segretario del PD chiede anche concertazione e iniziative di attrazione, chiede la dimissione di un assessore che persegue questo fine, come ha fatto la Lega e anche il Movimento 5 Stelle, mi sembra un'iniziativa che si condanna da sola, dice Bacchiocchi. La giunta agito nei tempi e nei modi opportuni. Poi ieri in realtà sul resto del canino abbiamo visto l'intervento dell'ex comandante della Polizia Municipale di Fano Giorgio Fuligno, il quale diceva non è una questione, l'ordinanza non era una questione soltanto di polveri sottili, ma era incentrata anche sul fatto della sicurezza e di conseguenza quando si va a modificare un senso di marcia, per esempio in una grande via di comunicazione, come può essere via Le Gramsci o giù di lì, insomma non si può permettere da altre auto, anche se fossero quelle non inquinanti come quelle elettriche o a metano, di comunque girare per questioni proprio di sicurezza. Quindi non è una questione legata soltanto all'inquinamento. E di interessante invece, di logico, molto interessante, dice Bacchiocchi, se si raggiungesse un accordo vivacizzando il centro con iniziative, la gente a piedi o in bicicletta si muoverebbe ugualmente. Dunque forse sarebbe stato più di appeal o più interessante organizzare iniziative magari meno spontanee, ma organizzate appunto senza le auto, un po' come si fa con la festa, la domenica dedicata ai bambini. Nuova scuola invece, c'è l'edificio di Carrara Cucurano, siamo sempre nel Fanese, dove questa scuola dovrebbe essere consegnata entro gennaio. In realtà ancora la situazione è quella che vedete sotto il rendering, sotto la fotografia a colori. Non si sa nemmeno se sarà pronta per settembre. Dunque è a rischio, questo è il titolo, la prima campanella, perché ancora il cantiere è un po' in ritardo. La giustificazione è che, essendo un cantiere appunto complesso, i ritardi sono, come dire, conseguenti al maltempo. E c'è un altro cantiere a Fano che sta facendo storcere il naso e venire in mal di pancia a non solo i residenti del Lido, ma anche alla Lega, che dice ci stanno nascondendo qualche cosa. Ilari ha chiesto l'accesso agli atti, l'assessore Tonelli però ha detto e ha risposto sono emersi problemi normativi, mancano delle pompe, ed ecco perché il cantiere che vedete nella fotografia, in questa foto del maggio scorso, è ancora lì fermo, immobile, senza che nessuno ci lavori. Quindi ecco, è una situazione che però preoccupa, anche perché stiamo andando verso comunque la bella stagione, quindi tornerà prima o poi la stagione estiva. Parliamo di Carnevale invece. A cinque giorni, dalla prima sfilata dei carri allegorici sul percorso di Viale Gramsci, nei capannoli del Carnevale, si stanno dando gli ultimi ritocchi a queste grandi costruzioni allegoriche. I carristi appaiono più rilassati rispetto agli anni scorsi, quando terminare i lavori nei termini fissati dal primo corso mascherato costituiva sempre un'impresa che li costringeva a lavorare persino di notte. Al Carnevale la natura ormai sconvolta, questo è il titolo, ci saranno, si potranno ammirare, pipistrelli, ciminiere, boschi abbattuti, le allegorie in costruzioni si annunciano di grande effetto spettacolare e c'è anche Capitan Aset. Poi l'ordinanza del sindaco che puntualmente arriva prima di ogni corso mascherato che prevede il divieto di ombrelli rovesciati, preginati al contrario per raccogliere il getto di dolciumi, così come la vendita di bombolette spray, no, la vendita, l'uso di bombolette, perché si possono vendere ma non si possono usare. Questa è un po' una contraddizione, ma è così. Sempre a proposito di Carnevale, quando i reali inglesi ballavano al Veglione, se ne parla in un libro, un libro che ha scritto Silvano Clapis e la collega Manna e che sarà presentato domani in fondazione alle ore 18 nella fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Si parla delle feste, per esempio, carnascialesche, che hanno sempre costituito un momento irrinunciabile nella vita dei fanesi. Se è vero che il Carnevale si svolge quasi ininterrottamente dal 1347, come dimostra un documento rinvenuto nell'Archivio di Stato, ma è quasi certo che si svolgesse anche prima, addirittura. In questo libro ci sono tantissime curiosità, come per esempio la corsa dei cavalli oppure dei somari, gli uomini nudi lungo la via principale, oppure la storia di come è nato il Voulon, che è la figura, il carro, la figura protagonista principale del Carnevale, una figura nata dalla fervida fantasia dell'artista Rino Fucci. Insomma, in questo libro che verrà presentato domani nella sala di rappresentanza della fondazione Carifano, ci saranno tutti questi aneddoti e cercheremo anche noi di coglierne alcuni e di raccontarveli senza togliervi il gusto della sorpresa. Anche qui di viete e parcheggi un va-de-mecum per gli automobilisti, saranno disponibili nei giorni del Carnevale le strutture del Van Vitelli, le aree del cimitero, l'ex foro boario e via Lecenedi. Niente ombrelli per prendere il getto, banditi i super alcolici, c'è l'ordinanza con le misure per la sicurezza, non saranno ammesse bombolette, lattine e vetro. Dalla Val Metauro il corso riaperto alle auto. Siamo a Fossombrone, un corso che, riaperto alle auto, dà ossigeno al commercio. Qui è un po' un ossimoro, nel senso che far entrare le auto nel centro dà ossigeno quando in realtà le auto inquinano. Insomma, vabbè, comunque, con Fartigianato e CNA incontrano gli esercenti, la soluzione del sabato va confermata. È necessario concertare in modo condiviso anche altre forme di sostegno. Mentre sempre a Fossombrone, guide turistiche e la scoperta della città nel corso d'aggiornamento le novità sulla quadreria San Filippo e la Pinacoteca. Da Pergola, Pergola resterà ospedale. Salvi Caglie e Sasso Corvaro, il piano socio-sanitario e legge, la soddisfazione di Minardi del PD ed Italè di Italia Viva. Passa anche la presenza di medici nei presidi minori in aggiunta a quelli del 118. Federico Pizzi, un grande artista e maestro che si è spento all'età di 91 anni. L'associazione Chiaroscura a Marotta organizzerà una mostra per ricordarlo. E sempre dal comune di Mondolfo se non paghi tributi comunali addio licenza. Ne parla l'assessore al bilancio e vice sindaco di Mondolfo Carlo D'Ottallevi che annuncia come Mondolfo è l'amministrazione tra le prime in Italia ad adottare questo regolamento contro le attività commerciali e produttive che evadono le tasse. Ci sono 45 giorni poi di tolleranza per regolarizzarsi possibile anche un piano di rateizzazione poi seguiranno sospensione e revoca. San Costanzo dove il formaggio si lancia un'antica tradizione rivive grazie all'amore di tre figli per il padre scomparso l'appuntamento l'otto e il quindici e poi musiche d'emozioni grande concerto in memoria di Andrea una serata commovente organizzata dagli amici del cancellatore scomparso diversi anni fa. E ancora dai quotidiani nella nostra rassegna stampa da Pergola mi aspettavo quelle critiche ma i risultati sono la priorità Guidarelli dopo i rilievi di Pergola nel cuore per la convenzione rinnovata a Confcommercio la sindaca dice non sono in cerca di consensi ma di risultati concreti quella era la strada giusta risplende a Mondavio piazza Ungaretti sabato l'inaugurazione terminata una delle opere pubbliche più attese a San Michele al fiume ruba una carrozzina a Senigallia ad una disabile poi la rivende la donna era andata a trovare una paziente in ospedale la polizia ha scoperto che un albanese l'aveva ceduta per 100 euro dunque andate in ospedale per fare visita al figlio di un parente e le rubano questa carrozzina elettrica vittima dello spiacevole episodio risolto grazie al tempestivo intervento della polizia è una disabile senigalliese che nel pomeriggio di lunedì si era recata con la carrozzina elettrica di cui necessita per spostarsi all'ospedale di Senigallia per far visita al figlio di un parente che si trova ricoverato nel reparto di pediatria la donna ha dovuto lasciare la sua carrozzina al piano zero a fianco agli ascensori e quindi si è fatta accompagnare poi il reparto quando è tornata non l'ha più non l'ha più vista e poi alla fine i poliziotti come abbiamo visto l'hanno ritrovata rintracciata l'aveva presa un albanese che poi l'ha rivenduta a 100 euro il summer jamborie a Lugano diventa on the lake stesso format on the lake scusate stesso format e poi sempre dal resto del Carlino si parla del tartufo con questa stagione un po' così tutta al contrario ribaltata la regione sbaglia i tempi dice Emanuele Marini un commerciante che non ha raccolto non lo può raccogliere perché è vietato a gennaio il bianco pregiato c'era ma non si poteva raccogliere e quindi chiede che si cambi in qualche modo la regolamentazione Emanuela Marini commerciante di tartufi con il marco Acqualagna Tartufi tra i più affermati in Italia come si è conclusa chiede il giornalista la raccolta del bianco pregiato e lei risponde amaramente nel senso che la regione con una visione poco avveduta ci ha impedito di lavorare favorendo ad esempio il Piemonte riusciamo a farci del male noi marchigiani nonostante siamo una terra ricchissima di tartufi e poi spiega anche il perché a gennaio si poteva trovare tartufo bianco pregiato in abbondanza anche nelle nostre terre nelle nostre zone però non si poteva raccogliere perché da noi il termine ultimo scadeva alla fine di dicembre sarebbe bastato modificare il regolamento per assecondare tanta produzione questa produzione e fare felici tutti i commercianti i ristoratori e anche ovviamente e soprattutto i consumatori andiamo velocemente siamo in chiusura a Pesaro di nuovo per questa assemblea delle partite IVA oltre 100 lavoratori autonomi che si sono riuniti dati appuntamento l'altra sera in assemblea alla Baia a Baia Flaminia loro dicono non paghiamo le tasse sospendiamo i versamenti useremo il ravvedimento operoso è un movimento che ha origine in Italia è un movimento nazionale quello delle partite IVA è nato ad agosto con circa 270.000 partecipanti il gruppo regionale in meno di due settimane ha già raccolto oltre 1700 adesioni e io dico finalmente la gente non si arrabbia più soltanto per il calcio ma si comincia ad arrabbiarsi anche per queste cose qua quindi ben vengano queste tra virgolette rivolte c'è una scritta una scritta che è sempre rimasta lì per chi va a Pesaro vicino a Muraglia che in una frase sintetizza tutto più IVA uguale più nero come dire più IVA e più evasione quindi questa la dice lunga comunque stiamo definendo le prossime mosse siamo seguiti da un pool di avvocati in Croazia nei primi dieci anni prelievo zero qui si deve puntare al tetto del 15% andate avanti in questo modo e fatevi sentire siamo prigionieri invece in casa nostra siamo sempre sul Carlino di Pesaro gli inquilini del nuovo condominio di Via della Robbia sono esasperati per le risse e la sporcizia sotto le finestre il comune è proprietario di una nuova area sportiva che però ha abbandonato ora ci portano i cani a fare i loro bisognini poi sotto rimossi materassi e mercanzia dal caseggiato dell'ex Enel sgombero ancora uno sgombero in Via dell'Acquedotto sempre a Pesaro e poi Drift Show iscrizioni al Via Auto Nuova questo è il primo premio è la novità più attraente della settima edizione prevista dal 27 al 29 di marzo due piloti partiranno in contemporanea e si sfideranno al centesimo nello stesso circuito e poi sotto questo struzzo da 100 chili per le strade di Padiglione gli automobilisti increduli l'hanno visto girare per i campi tra Saludecio e Tavuglia sono intervenuti i forestali che poi alla fine l'hanno preso un possente esemplare di maschio adulto impiegato per la riproduzione che è scappato al controllo evidentemente era stressato fuggito dall'allevamento e ricercato per tre giorni fanno saltare il banco ma te chiudi o spariamo siamo sempre nella cronaca di Senigallia ma a Serra dei Conti il paese tra l'altro che ha visto distrutto il viscioleto dove però con questo crowdfunding con questa raccolta fondi su internet sono riusciti i fratelli cardinali a raccogliere già i primi soldi si parla di 3.000 euro ne servono 150.000 per rimettere in piedi tutta la produzione ma insomma è già un primo passo ci fermiamo qui la rassegna di oggi è finita grazie per la vostra cortese attenzione noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia questo è il numero di telefono per le vostre segnalazioni a me non resta altro che augurarvi una buona giornata arrivederci a me non resta Autore dei sorrisi